amici più grande affare che ho fatto è comprato profumo amici profumo di versace 200 ml e tester perché chi è stato al vino lo sa che si vendono tanti tester io era in caccia a comprare tester più grosso perché ci sono 50 100 un tester da 200 ml per me mi sembra per la prima volta l'anno scorso ho comprato tester 150 ml ce l'ho ancora e ce l'ho tanti profumi mi piacciono tanto profumi ma questo proprio buono proprio buono wow questo per capire bene io io quando esco in bagno spruzzo tanto tanto in bagno spruzzo su due gocce su di me e poi anche in bagno tanto tanto in bagno tre quattro cinque parecchio intanto c'è 200 ml che si può mettere dappertutto anche sul letto sul divano in stanza spruzzare così così sarà bella stanza profumata ecco qua bene e per capire questo profumo quando torno fra due tre ore bagno sei metri quadri una stanza piccolina e si sente profumo quando apri finestre racchiusi chiudo finestre quando entro sento vero questo profumo amici perché è molto difficile è difficile capire dopo uno io non sento dopo quando esco il profumo dopo non sento qualche volta io spruzzo uno profumo qui qui proprio qui per annusare e altro spruzzo d'altra parte quando esco fra un ora a fuori comincio a annusare sente poco si sente poco ma quale migliore perché vuole fuori volevo capire quale migliore è questo oppure questo io non riesco a capire si sente poco a casa quando spruzzate così in bagno forte forte e tornate a casa dopo un po questo profumo rimane e dopo si sente si sente se piace o non piace comunque ho comprato anche altri profumi a Livigno perché Livigno molto famoso iva non si paga tutti i negozi tutti i prezzi che vedete è prezzi di Livigno già scontati 60 per cento che significa se per esempio in italia una maglietta una felpa costa 100 euro va bene in italia questa felpa uguale a Livigno costa senza iva che sarà più o meno non lo so 80 euro diciamo così 80 euro più 50 per cento ancora sconto 30 per cento di sconto e questa maglietta che la io posso comprare con 40 euro amici con 40 euro e se voi non non rispettate saldi pagate 100 euro in italia qui al vostro negozio eccomi qua amici parlavo di questo giubetto e non è bellissimo diciamo c'è di meglio c'è c'è di peggio comunque è chiaro color panna dentro non mi piace tantissimo per vedere questi quadretti questi quadretti sembra da circo però questo è dentro si può anche mettere fuori perché questo b c'è la b fa b fa due facce si può a destra e a sinistra comunque avete capito si può da tutti i due lati si può portare e tutto mi copre sedere amici mi copre sedere è leggerissimo è morbidissimo importante che mi copre sedere che mi va mi va fino qua prima di genocchia ce l'ha giubetto si può portare anche da tutti e due parti perché vedete tasche ci sono anche qui da tutti e due parti già provato a casa e questo giubetto ho pagato 59 euro amici non mi ricordo che se lei mi abbassato pochino o no però mi sembra prezzo è questo marca è questa trattata artigianalmente non è roba cinese comunque comprato per avere un giubetto chiaro per perché mi piace quando inverno bello sole caldo e molto bello vestirsi in bianco poi questi voglio dire ancora questa maglietta questa maglietta comprato soltanto perché righe mi piacciono amici io adoro righe questa riga color panna con nero vedete color panna con nero ecco qua bello si vede qua e comprato perché leggera perché morbida ho pagato mi sembra vedete che il prezzo non c'è ma mi sembra 40 euro pagato questa qua poi più bello a fare questo qua questi pantaloni vedete questi pantaloni è così fatti così in questo modo ecco qua questi outlet costavano così tanto tanto che io io ho comprato amici vedete costava 200 in italia guardate prezzo da spavento vedete 328 in italia all'ivigno 270 ecco qua con 108 euro io ho comprato amici anche mi stretti mi stretti sul qui ho chiuso però appena appena chiuso appena appena chiuso appena appena chiuso devo dimagrire assolutamente dov'è questo sulla tasca trovato questo qua guardate che che oggetto ce l'ha vedete com'è bello quando lavare bisogna levare questa piuma comunque questo poi questi due bello questo affare amici questo finissimo finissimo questa marca di quest anche questa qua grande affare perché io ho comprato da 66 euro 60 per cento di meno amici perché in italia 80 66 e in quello negozio 60 per cento di meno abbiamo comprato tanta roba e pagato più o meno 30 euro questa qua mi sta molto molto bene questa ho comprato perché questa morbida e lunga molto lunga questa mica larga lunga questa è io ottobre non ottobre novembre penso di portare aperta davanti e metto una maglietta nera metto maglietta nera senza chiudere senza chiudere qui senza chiudere bottoni ecco qua senza chiudere bottoni comunque non importa questa di viscosa mi sembra questo ha pagato un pochino pagato mi sembra 38 euro anche questo ha pagato ecco è contenta molto contenta perché questa bella bella lunga e mi piace comprato questa felpa questa felpa è bellissima questo indietro questo sul sulla schiena tre farfalli neri colore non è bianco ma leggero caffellate cappuccino così chiaro 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 molto chiaro cappuccino e davanti ce l'ha due due farfalli questi qua davanti dove c'è tasca marca è questa e questa non mi volevo questa ho pagato mi sembra 38 euro scontrino non c'è 38 euro però mi è piaciuto tanto tanto questo colore non mi sta bene colore questo sarebbe bene colore che uno ce l'ha capelli neri sarebbe bellissimo ma io ce l'ho molto sbiaguiti molto fieno i miei capelli diventati allora vediamo come sarà sarà un po problema questa maglietta questa maglietta amici di qualità perché questa è proprio tessuto pesante bello morbido cosciutore belli questa pagato mannaggia non c'è prezzo non c'è prezzo vedete tagliano così in questo modo così ma mi ricordo che io ho pagato mi sembra 60 euro costava 100 100 qualcosa io ho pagato 60 euro perché ho comprato perché bella nera molto molto di qualità vedete come cuciture guardate com'è fatta è un pochino invernale questa qua pochino invernale e ce l'ha questo disegno bianco davanti altra felpa ora pantaloni questi pantaloni vi faccio vedere ora più tardi vi faccio vedere felpa questa qua questa felpa mamma mia che amore questa felpa questa mia proprio preferita questa mia preferita perché questa felpa nera amici di qualità di marca vediamo come sotto sotto fatta in questo modo ma questa scritta non è bianca ma grigia rock questa rock and roll questa scritta amici è grigia è bellissima grigia e proprio non è scritta qui c'è c'è plastica attaccata vedete ma non c'è problema perché io ce l'ho tanta roba che è plastica attaccata e non è bianca è proprio perché grigia questa scrittura è grigia è grande suo fascino perché bianca sarebbe un aspetto meno costoso e questa è proprio con gusto fatta vediamo prezzo in italia quasi 130 l'ivigno 105 e quanto pagato pagato io meno non tanto meno perché questa mi sembra 70 euro pagato qualcosa del genere 30 per cento di sicuro pagato poi trovo scontrino amici trovo scontrino e mettiamo qua e mettiamo qua mettiamo qua vediamo pantaloni questi pantaloni perché là c'è tanto sportivi 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 tanti sportivi a io sportivi tutti i giorni e comprato questi qua caldi 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 c'è scrittura una lunga così e altra qui ecco qua due scritte così vedete materiale molto molto caldo marca è questa tutti conoscono questo già mi sembra prezzo finito 32 euro non c'è niente da fare dovevo fare questo prezzo così e questi indietro così questo proprio morbidissimo caldissimo un plush molto molto comodo per gennaio per febbraio poi un paio di jeans comprato un paio di jeans questi qua questi qua è quasi gratis neri come piacciono a me questi non è lunghi questi corti saranno fino fino caviglia sopra caviglia sopra amici c'è là questi è rotto qui è rotto qui è rotto qui ecco qua questi mi stanno proprio precisi 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 ma io ci devo dimagrire ora vi faccio vedere prezzo guardate ecco qua ma dove era prezzo normale ah non c'è prezzo pieno perché ah c'è prezzo ecco qua prezzo pieno vedete ecco 59 in italia c'è italia qui questo prezzo di livigno 49 di livigno in italia costa di più ma io ho pagato 19 euro quando ho visto questi neri neri perché neri è proprio c'è la due tasche semplici semplici amici molto semplici però non è facile per me comprare questi pantaloni perché è neri e mi stanno aderenti sopra caviglia mi stanno bene poi questo ho già fatto vedere ecco qua questi anche questi pantaloni questi sarebbe eleganti però non è elegante amici sportivi però così fini 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 e neri mi stanno così bene bene che io molto molto contenta anche questi lunghine lunghi vi faccio vedere materiali come questi neri sì non è blu non è blu è molto di qualità vedete come tessuto fatto bene qui questa è molto fine questo proprio un seta guardate una seta morbidissima e costava ora c'è prezzo vedete non hanno staccato ecco qua questo prezzo di livigno 67 in italia costa ancora di più che misura questa qua xl mi sembra xl e io ho pagato 30 euro ecco xl c'è scritto io ho pagato 30 euro 29 euro marca è questa marca è questa questi sotto si può anche questa ecco qua ecco qua amici questa vedete potete aprire potete stringere ecco qua volete più larghi volete più stretti si può stringere qua ah poi non dimenticare più grande che mi piace tantissimo è questa maglietta amici questa maglietta ha avuto io grossa grossa fortuna di trovare perché ultima perché ultima è blu scura amici questa è blu scura ma fine fine mi piace perché fine 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 ora vi faccio vedere ce le ha leggeri righe guardiamo così ecco qua guardate come fine fine vedete è fine è finissima è morbidissima mi piace per questo mi piace perché blu blu scuro ma guardiamo che c'è scritto qua sostanza amici 75 di cotone e 25 di seta vedete seta seta materiale naturale e per questo si sente molto seta e cotone potete immaginare grande non è piccola mi sembra XL libera mi sta benissimo questi righe così guardate guardate come fine come piace a me e marca è questa questa io ho comprato dove ho comprato questi jeans neri marca è questa c'è tanta roba di questa qua marca ecco qua poi ci vediamo ancora alla prossima volta io vorrei vorrei amici anche misurare davanti specchio e vi fare vedere poi ci sono anche mio uomo io constrengo che lui si deve mettere tutta questa roba e misurare anche lui ci è una roba molto molto interessante amici ci vediamo presto arrivederci amici seguite grazie a me di like scrivetemi che cosa a voi è piaciuto di più e assolutamente voglio commenti amici commentate perché ho studiato a fare questo video fuori 37 gradi e siamo già ultimi giorni di agosto quasi settembre è arrivato amici a presto amici grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti